A che scopo avete fatto questo progetto? Lo scopo diciamo che è un modo diverso di fare lezioni. In pratica noi trattiamo gli argomenti comunque del programma, però è un modo diverso. Cioè creiamo queste stanze tridimensionali con questa opera d'arte. Però comunque devi informarti su che è questa cosa, che cos'è, perché, di che periodo è. E quindi capi? In fondo stai comunque a studiare. E niente, lo scopo è questo, fare un modo diverso di lezioni che comunque è molto, oltre che divertente. Secondo me il progetto è interessante, sarebbe bello anche provare un'esperienza del genere, però secondo me dovete essere più compatti per voi, più uniti, senza problemi.